Cinque serate dedicate alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. Torna a Termoli Agri Summer Food la manifestazione giunta alla seconda edizione che si terrà dal 24 al 28 luglio. L'iniziativa quest'anno è legata ad Expo, riprendendone a pieno il tema, ovvero cibo, energia per la vita, nutrire il pianeta. L'intenzione, ha specificato il governatore Frattura, è stata quella di creare un ponte tra il Molise e Milano, riuscendo nella scommessa di collegare Expo nazionale con quello regionale. Un programma che abbiamo promosso anche a Milano, con l'auspicio e l'augurio che diversi frequentatori, visitatori o soltanto curiosi che hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al Molise in Expo possano ritenere valida anche una presenza su Termoli. Cinque giornate, cinque giornate a tema, si parte con la pasta, si passa per la tintilia, si arriva al tartufo e il pesce, l'olio e i latticini. Quindi serate a tema, serate a tema enogastronomico, ma che comunque si collegano a eventi artistici, musicali, a dimostrazione di quanto importante sia territorio, enogastronomia, cultura e turismo. Il governatore ha poi rimarcato l'intenzione di puntare sul turismo enogastronomico, rispondendo così alla polemica scoppiata sui social relativa al menù della serata di gala tenutasi a Milano lo scorso 17 luglio, che a detta degli utenti non avrebbe valorizzato e promosso le specialità del Molise. La serata di gala, solo per un fatto di chiarezza, ha visto protagonista PET, cioè chi si è aggiudicato la gara di appalto per la ristorazione dedicata. Rispetto a questo avevamo la possibilità di presentarci con i nostri prodotti, essendo quella la serata destinata agli operatori specializzati nel vino, è chiaro che abbiamo puntato alla presenza su tutti i tavoli dei vini molisani per dare la possibilità alla stampa specializzata di degustare durante il pasto i nostri vini. 36 le aziende che saranno protagoniste quest'anno, ha reso noto il presidente di Union Camere, Pasqualino Pier Simoni. Una vetrina importante per Termoli, una cinque giorni, caratterizzata da degustazioni e show cooking, che i turisti apprezzeranno il commento del sindaco Angelo Sbrocca. Ogni serata sarà dedicata ad un prodotto specifico, il 24 luglio, alla pasta. Olio e birra saranno protagonisti il 25 luglio. Il 26 sarà la volta della tintilia. Il 27 del tartufo e del pesce, per concludere il 28 con i latticini. In occasione dell'ultima giornata sarà fatto anche un primo resoconto sulla settimana del Molise Expo, che ad oggi ha fatto registrare ben 6.000 visite.